Se apriamo un mobile vediamo che la cura non è solo estetica, ma anche nella parte interna, quindi entri proprio nel cuore del mobile. Un cuore ce l'abbiamo noi, un cuore ce l'hanno i mobili, ce l'hanno in tutto quello che tu fai. Questo è amore per i mobili che in questo caso si fanno, ma è amore italiano, amore nostro che abbiamo all'interno per tutto il mondo che ci circonda. www.archeda.eu, l'apertura di EU per dire europeo, per dire che anche noi apriamo la nostra mente a un oltre confine che non è solo Italia, ma ormai è tutta Europa. La passione è tutto, la passione è amore e voglia di fare e essere vincenti e non pesare mai ciò che fai, è il seme del successo di quando fai qualcosa. Se fai qualcosa e non hai la passione devi smettere perché sicuramente non avrai successo. La passione è per noi un modo importante di essere. Grazie a tutti.